per la serie numero 5 Riccardo Mozzato corsia numero 1 Mattia Filoso la 2 Leonardo Favaro in 3 Alessio Bertoncini alla 4 Ettore Miotti in 5 Leonardo Limido alla 6 Giusciac e Franceschi in 7 Leonardo Beltrame alla 8 Grazie a tutti Allora è stato preso per sbaglio probabilmente il tesserino di Alice Guglielmo che aveva nuotato in corsia 3 qualche serie precedente quindi l'invito a verificare e nel caso a portarlo qui in postazione Alice Guglielmo tesserino federale corsia numero 3 Grazie a tutti Grazie a tutti